salve sono felice del gaudio vi vorrei far ascoltare il suono di questo bello strumento è un due quarti un detto bassetto è un contrabbasso costruito dalla diuteria stanzani nel 1993 quindi ha ben vent'anni ascoltiamo il suono eccolo qua per informazioni vi rivolgete al negozio borsale in musica grazie